Sto per lei che non ti fa capire le... RANG, lei RANG Ma zio Ma cos'era? Scusa? Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su... Dead or Alive Dead or Alive è il gioco a cui stiamo per giocare Bentornati su Neo Walker, sei il canale Ok? Silenzio Lei era fortissima, io prendevo sempre lei Come cazzo si chiama? Leggi il nome C'è questo overlay che non ti fa capire le... RANG Lei RANG Che quando hanno realizzato il nome di merda che avevano scriptato Piuttosto che cambiarlo Ah no, è sto flash RANG No ragazzi, questo è diventato trash Non è più vintage TINA, madonna mia TINA Nina, Nina, Tina Bass Raga, io prendo Bass Tuffa la vita, Bassi Maestro Madonna che brutto Bass Stiamo giocando a una perla di schiva qui Lui era convinto di aver già giocato No, ma era nato quello che... Oddio Era OP Ma che c'era sto borello? Che c'era sto borello? Io sono Castello Borello Porco Dio Io sono fortissimo Guarda che aveva un gameplay Si accendo un tasto quella roba Ah ma... Come ci si pare sto gioco di merda? Indietro Come si Una bella storia Ah, ero girato dalla parte sbagliata Minchia Tuffio è andato... Ah, con l'A ci si pare Carretino Con l'A ci si pare Cioè, guarda quanto ballano... Guarda quanto... Madonna, zio! Sono intercettata Guarda che roba Ah, minchia Come facevano? Bellissimo È anche abbastanza OP Io sono fortissimo Ma no, ma io sono fortissimo Ah, tu sei bravo, sì No, non so come ho fatto Eh, lo so, però la fa Con B fa la presa Con B fa la presa a caso Oh, madonna Ma che potenza c'è Ehi Fai al tuo posto, sai Bastardo Io non gilevo un cazzo Lo toglie tantissimo Mi hai rotto con due pugni Questo gioco va a cagare No, ecco, è che sta perdendo No È fatto brutto proprio Cioè Non è vero Ayabusa Io dove era quella che usavo sempre Di Young, di X-Hung Di Rank Cavaliere Ayabusa Cavaliere Ayabusa Era una carta Da gioco di Yu-Gi-Oh Ed era Un falco Un cavaliere con la testa da falco E le zampe da falco È un ninja orribile Madonna mia Io sono fortissimo Oh, guarda Lo spuntano lì per spazio Già Oh Ma zio Ma la Cosa fai? Ti bag Faccio io ti bag Come si è coi fatto Inclinare Abbassarti Bello Stai facendo delle belle mosse Inca Prima non c'avevo Il Il Oh T'ho aperto il culo No, bello Madonna Fai versi di Iren Eh, però Ma hai scoperto Come si muove Su questa verticale Adesso lo metto come si muove su la verticale Sì, adesso dimmi il nuovo Io su la verticale Ah, te lo sto chiedendo Era per suggerirti Sai, puoi fare queste cose Oppure queste Oppure queste Oppure Però sto gioco è bello Che non è troppo spammi Esatto È quello che mi sta Veramente Che cazzo Eh, no Infatti Lo vedo O giochi tecnico Mi è bastato premere un tasto Guarda che roba No Replay Ma dai Ah, l'ho visto Dai, rifai, rifai Troppo tardi, fratello Teleport BAMBACI Ma che fisica è Dai Ma hai spedito Dalla che sera Questo No, non è fatto male Però si vede che era anni 2000 2001 un po' Era molto Tipo Sì, facciamo il 3D Molto Hard attack Eh, un po' hard attaccoso Ma C'hai spenuto, bro Sì Porca, bro Mi sono mica ripreso Sono morto Per fortuna Il pugnetto finale Il Juken Hai visto il replay? Sì, grazie Ehi, dove è guanna? No, cosa fai? Capoeira Ma Cos'era? Scusa? Si è diventato super Saiyan Ah, stai basso così Perché sei l'infame Sono l'infame Ma perché? Sei sempre Il primo personaggio femmina Ma hai distrutto Brava Perfect Vuoi vedere il replay? No, no, vabbè Ah, no, no Guarda che brutto font Disappearing È orribile Eh, non ce ne aveva un altro mischio Lei comunque salta come uno No, però Si cade qua Si cade? Oh, puro Pu 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 No, bastardo Mi stavo recuperando Ma stavo tracciando Ma si ma io dai Ma come son vestita Ma perché? Si, non è da combattimento Ma tu sempre lui hai? Ho fatto tutte le stesse mostre No, è un altro zio Ma fa tutte le stesse mostre Devi far cagare la cambio subito Poi ci bannano il canale Perché? Perché non si può Ma è nudità Dai Ah, vabbè Si Ma è te la ponendo? A me ne è giapponese Ma un reggiseno Ma che bello sono No, il mio fa lo studio dell'ubriaco Non ci ha messo su un cazzo Eh, il mio fa Ma fa la moodle run Guarda C'ha registrato Cos'è? Cos'è la roba? Ma stavo parando Ma poi c'è il davanzale Ci rimasto male il tuo Certo Ah, il mio non para Il mio non può parare Non ha peri Non ha peri Non ha peri Ah, perché cazzo È queer È queer Dici, potrebbe essere Lgbt tipo Lgbt friendly Ma cosa vuol dire Lg tutti insieme È friendly Ma no È fra il 2002 Figura Appunto È un loro amico programmatore È in Giappone È troppo forte È troppo forte Modona Il mio quando mena mena Il mio è coso È quello di Quantang Il tuo è Quantang Quantang, bravo Mi piace molto il suo spiro Spam Il bugger t'ho fatto Guarda Per il reggiseno poi è meglio Spam Mamma mia Che cazzo di me Ha natato da Non lo è Boran No Zaku Tenda Io sono Zaku La tenda Ma il tuo che calci ha wireless Dio fa No No Hai calci wireless E Bruce Lee zio Ma stai zerto Cioè Il più di due Ti zio Dai però Troppo forte No Troppo forte Sti calci Bruce Lee è Bruce Lee Troppo forte No sono imparabili No E poi ti loccano Cioè Guarda che ro Ti loccano Io provavo ad andare stilato Ma niente Oh dai Quello è rimasterato Adesso cambia Per noi Gianli Perdi Aiden Andiamo a Gley Boulong E lui di tedesco Hein Hein Zwei Trae Il primo fratello Hein Esatto Secondo Zwei Come facevi a fare i calci wireless Ah ok Ok ho capito Oh zio Ok ho capito Come facevi a fare le cose wireless No facevi altre cose Stai facendo altre cose Che volevo Ma lui è forchissimo bro Ma non ha senso fare un personaggio così forte Arriva molto lontano Forse Questa è la presa più bella della storia Da quanto ho fatto prima Esatto Inutile Oh così vai intercetta così Bello bello Bravo Ma adesso è il mio turno Ah si Ma non togli un cazzo Ah tu ti ricarichi Per i tuoi anime Sei tedesco ti ricarichi Ma che cazzo di Non è vero Avete fatto più di quello No Ti ricarichi Visto che ho iniziato prima del fight Il mio è proprio un fan Si si Sì si Sì si ma Una scalcetta in aria Ma fatti prendere sta cazzo di presa Oh bello No vabbè Così mi hai fatto Ti dimostra devo che non è forte il personaggio È forte il player No vai caga Adesso prendo quello e ti straccio Perché quello è il più forte Io prendo OneTang Allora io devo cambiare Ayame l'hai già provata vero? No Ci manca ancora lei Vai vai prova Ayame No i capelli rosa Eh si Come tutte le brave stream Come i capelli rosa Guarda quanto sono i fiocchettati Guarda quanto sono i fiocchettati Sono i peggiori Bellissimo Guarda il mio è lento Le tipe saltano Saltano tantissimo Ti beggo guarda Ti beggo Ma tu Ma che salti faccio Raga abbiamo fatto uno scambio No vabbè Esatto Una danza praticamente Il mio fa cagare Si si Ma è vecchio bro Ce l'avranno a 90 anni Ma non fare age shaming Cioè No ma che è successo In che posizione ero Ah qua sta facendo questo Prima Oh se ti pigliavo con la pirouette La mia è sempre in pirouette Ma a scassare Oh sono qua Ma cosa Perché fa sti giochetti Comunque lei Con quelli ti posso battere Anche ai Wlong Oh Dici Eccolo lì Che deve subito iniziare A morire Eh ci sentite vicino Eh Again Porco dio Questa cerca pezzoli di cuore Ma perché sono nude Ma io sono contro queste cose Cioè E niente Caccio in faccia Eh questa è una bella sfida Eh Madonna La tua tira La tua tira Delle mazzate No dai Sei buona No bastardo La presa comunque C'è la cosa migliore Per intercettare La presa Si hanno fatto una presa Devo dire Questo è un commento tecnico Hanno fatto una presa Che è utilizzabile Come contrattacco Come perry Vedi tacca Adesso è error of timing Lo fa Esatto Madonna mia Che tempi di reazione Lenti però che ci sono Dopo tempi di reazione Lenti Io hai abusa Non ho mai trovato Si è una giustificazione Della donna Proprio Scontata Gratis Inconcepibile Fan service puro Stai pagando il gioco Sempre nel 2002 Che ci ha fatto No l'abbiamo provata Per prima Vabbè Non mi cade 17 Vero vai C18 E lenti Il tuo Minca Lui Lui Se è calato Una pasta Prima di iniziare Eh ma lui E con le ombre Devi capirlo Eh è un trippatone Ho una musica Che vai Ma come fai a parlare La presa Eh schiacci la presa È un momento giusto Porca broia E niente Il mio fight trick Così a Un trickster Ma devo dire Che Non mi ha De luce Avevo delle aspettative Bassissime E Le ha Un po' Scalzate Bello A me i piccatori Piaciono tutti E quindi ragazzi Anche per questa volta Ci siamo portati a casa Dead Alive 4 Best No non è ancora 2 Va beh È un gioco meraviglioso Ci vediamo al prossimo appuntamento Con Neon Walker Nostalgia No non è ancora Fuos non è ancora Francesco 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 Mi